Le 24 ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Gesù innanzi a Pilato. Pilato lo manda da Erode. Quindicesima ora. Dalle 7 alle 8 del mattino. Preghiera di preparazione. O Signor mio Gesù Cristo, prostrata alla Tua divina presenza, supplico l'amorosissimo tuo cuore e voglia ammettermi alla dolorosa meditazione delle 24 ore in cui per nostro amore tanto volesti patire nel corpo adorabile e nell'anima Tua Santissima fino alla morte di croce. Dè, dammi aiuto, grazia, amore, profonda compassione e intelligenza dei tuoi patimenti. Mentre medito, l'ora. E per quelle che non posso meditare, ti offro la volontà che avrei di farle e intendo intenzionalmente meditarle, in tutte le ore che sono costretta o ad applicarmi ai miei doveri o a dormire. Accetta, o misericordioso Signore, la mia amorosa intenzione, e fa che sia di profitto per me e per molti, come se effettivamente e santamente eseguissi quanto desidererei praticare. Intanto grazie ti rendo, un mio Gesù, che per mezzo della preghiera mi chiami all'unione con Te e per piacerti di più prendo i Tuoi pensieri, la Tua lingua, il Tuo cuore e con questo intendo pregare, fondendomi tutta nella Tua volontà e nel Tuo amore. Estendendo le braccia per abbracciarti, poggio la mia testa sul Tuo cuore ed incomincio. Gesù innanzi a Pilato. Pilato lo manda da Erode. Legato mio bene, i Tuoi nemici uniti ai sacerdoti ti presentano a Pilato e, affettando santità e scrupolosità, dovendo festeggiare la Pasqua, restano fuori nell'atrio. E Tu, mio amore, vedendo il fondo della loro malizia, ripari tutte le ipocrisie del corpo religioso. Anch'io riparo insieme con Te. Ma mentre tu ti occupi per il loro bene, essi invece incominciano ad accusarti presso Pilato, vomitando tutto il veleno che hanno contro di Te. Pilato, mostrandosi non soddisfatto delle accuse che ti fanno, per poterti con ragione condannare, ti chiama in disparte e, da solo, ti esamina e ti domanda. Sei Tu, il re dei Giudei? E Tu, vero mio re Gesù, rispondi. Il mio regno non è di questo mondo, altrimenti migliaia di legioni di angeli mi difenderebbero. E Pilato, commosso dalla suavità e dignità del Tuo dire, sorpreso, ti dice Come? Re sei tu? E Tu? Tu lo dici, io lo sono, e son venuto nel mondo ad insegnare la verità. Pilato, senza voler sapere altro, convinto della Tua innocenza, esci alla terrazza e dice Io non trovo colpa alcuna in quest'uomo. I Giudei, arrabbiati, ti accusano di tante altre cose, e tu taci e non ti difendi, e ripari le debolezze dei giudici, quando si trovano di fronte ai prepotenti e le loro ingiustizie, e preghi per gli innocenti, oppressi ed abbandonati. Onde Pilato, vedendo il furore dei tuoi nemici, e per sbarazzarsi di te, ti invia da Erode. Gesù innanzi ad Erode Mio Re Divino, voglio ripetere le Tue preghiere e riparazioni, e accompagnarti fino ad Erode. Vedo che i nemici, infuriati, vorrebbero divorarti, e ti conducono tra insulti, scherni e derisioni, e poi ti fanno giungere innanzi ad Erode, il quale, gonfiandosi, ti fa molte domande. Tu non rispondi, e nemmeno lo guardi. Ed Erode, irritato perché non si vede soddisfatto nelle sue curiosità, e sentendosi umiliato dal tuo lungo silenzio, proclama a tutti che sei pazzo, e senza senno, e come tale ordina che sia trattato. E, per burlarti, ti fa vestire di bianca veste, e ti consegna in mano ai soldati, affinché ti facciano il peggio che possano. Mio innocente Gesù, nessuno trova colpa in Te, solo i Giudei, perché la loro affettata religiosità non merita che splenda nelle loro menti la luce della verità. Mio Gesù, sapienza infinita, quanto ti costa l'essere stato dichiarato pazzo? I soldati, abusando di te, ti gettano per terra, ti calpestano, ti imbrattano di sputi, ti vilipendono, ti battono con bastoni, e sono tanti i colpi che ti senti morire. Sono tali e tante le pene, gli obbrobri, le umiliazioni che ti fanno, e gli angeli piangono e si coprono il volto con le loro ali per non vederle. Mio pazzo Gesù, anch'io voglio chiamarti pazzo, ma pazzo d'amore. Ed è tanta la tua pazzia d'amore che, invece di adontarti, tu preghi e ripari per le ambizioni dei re, che ambiscono regni per la rovina dei popoli, per tante stragi che fanno, per tanto sangue che fanno spargere per loro capriccio, per tutti i peccati di curiosità e per le colpe commesse nelle corti e nelle milizie. Mio Gesù, com'è tenero vederti in mezzo a tanti oltraggi pregare e riparare. Le tue voci si ripercuotono nel mio cuore e seguo ciò che fai tu. Ed ora lascia che mi metta a te vicino, prenda parte alle tue pene e ti consoli col mio amore. Ed allontanandoti, nemici, ti prenda fra le mie braccia per ristorarti e baciarti la fronte. Dolce mio amore, vedo che non ti danno pace ed Erode ti invia a Pilato. Se doloroso è stato il venire, più tragico sarà il ritorno, perché vedo che i giudei sono più arrabbiati di prima. Da qualunque costo sono risoluti a farti morire. Perciò, prima che tu esca dal palazzo di Erode, voglio baciarti per attestarti il mio amore in mezzo a tante pene. E tu, fortificami col tuo pacio e con la tua benedizione, ed io ti seguirò dinanzi a Pilato. Riflessioni e pratiche Gesù, presentato a Pilato, in mezzo a tanti insulti e disprezzi, è sempre dolce, non disdegna nessuno, e in tutti cerca di far splendere la luce della verità. E noi, ci sentiamo uguali con tutti? Cerchiamo di vincere il nostro cattivo naturale se qualche persona non ci simpatizza? Trattando con le creature, cerchiamo sempre di far conoscere Gesù e far risplendere in loro la luce della verità. O Gesù, dolce mia vita, metti sulle mie labbra la tua parola e fa che parli sempre con la tua lingua. Gesù, innanzi ad Erode, tace vestito da pazzo e soffre pene inaudite. E noi, quando siamo calunniati, scherniti, insultati, derisi, pensiamo che il Signore vuol darci una somiglianza divina? Nelle nostre pene, nei disprezzi e in tutto ciò che il nostro povero cuore potrà sentire, pensiamo che è Gesù, che col suo tocco ci dà dolore, che col suo tocco ci trasforma in sé, e ci dà la sua somiglianza. E tornando a noi il patire, pensiamo che Gesù, rimirandoci, non è contento di noi e quindi ci dà un'altra stretta per poterci del tutto rassomigliare a Lui. Ad esempio di Gesù, possiamo dire che abbiamo il dominio di noi stessi che invece di rispondere nelle contrarietà, preferiamo tacere. In ogni pena che si può soffrire, bisogna mettere in intenzione che essa è una vita che si dà a Gesù per impetrare anime e mettendo le anime nella volontà di Dio, il nostro dolore fa cerchio e racchiudiamo in esso Dio e le anime per congiungerle a Gesù. Amor mio e mio tutto, prendi tu solo il dominio di questo mio cuore e tienilo nelle tue mani affinché negli incontri possa ricopiare in me la tua grande pazienza. Preghiera di ringraziamento Mio amabile Gesù, tu mi hai chiamata in quest'ora della tua passione a tenerti compagnia ed io son venuta. Mi parve di vederti angosciato e dolente, pregare, riparare e patire e con le voci le più tenere ed eloquenti per orare la salvezza delle anime. Ho cercato di seguirti in tutto e ora, dovendoti lasciare per le mie solite occupazioni, sento il dovere di dirti un grazie e un ti benedico. Sì, oh Gesù, grazie ti ripeto le mille e mille volte e ti lodo e benedico per tutto ciò che hai fatto e patito per me e per tutti. Grazie e ti benedico per ogni goccia di sangue che hai versato, per ogni tuo respiro, palpito, passo, parola, sguardo e per ogni amarezza e offesa che hai sopportato. Per tutto, oh mio Gesù, intendo segnarti con un grazie e un ti benedico. De, oh Gesù, fa che tutto il mio essere ti mandi un flusso continuo di ringraziamenti e benedizioni in modo da attirare su me e su tutti il flusso delle tue grazie e benedizioni. De, oh Gesù, stringimi al tuo cuore con le tue santissime mani e segna tutte le particelle del mio essere col tuo ti benedico per fare che da me altro non possa uscire e un inno continuo verso di te. Perciò mi lascio in te per seguirti in ciò che farai anzi, opererai tu stesso per me. Ed io, fin d'ora lascio i miei pensieri in te per difenderti dai tuoi nemici il respiro per corteggio e compagnia il palpito per dirti sempre ti amo e a rifarti dell'amore che non ti danno gli altri le gocce del mio sangue a ripararti e a restituirti gli onori e la stima e ti tolgono i tuoi nemici o gli insulti, sputi e schiaffi e tutto il mio essere per guardia. Dolce mio amore sebbene debbo attendere alle mie occupazioni resto nel tuo cuore ho paura d'uscirne tu mi terrai in te non è vero? I nostri palpiti si intenderanno a vicenda e si confonderanno insieme in modo da darmi vita amore stretta unione inseparabile con te Mio Gesù se vedi che sto per sfuggirti il tuo palpito si acceleri nel mio le tue mani mi stringano più forte al tuo cuore i tuoi occhi mi guardino e mi gettino saette di fuoco affinché io, sentendoti mi lasci subito tirare all'unione con te De mio Gesù dammi il bacio del divino amore abbracciami e benedicimi io ti bacio nel dolcissimo tuo cuore e mi resto in te grazie a tutti